Ci siamo, siamo arrivati alla decima edizione del Paglio del Saraceno, organizzato dall'Associazione Cavalieri Daceprandus e la Proloco di Rocca Sinibalda. La manifestazione si svolgerà dal 5 al 7 agosto presso il campo sportivo. Quest'anno tantissime novità, tra cui la partecipazione di artisti internazionali come Bartolo Messina, Iaragonas Show e i suoi volteggiatori Federico Forci, Manuele Baffetti, Gianluca Galluppi, la Valle dei Butter di Fiano Romano e il Centro Equestre Sabino. La voce e la regia è dello speaker internazionale Nico Belloni. Per tutti i tre giorni ci sarà la possibilità di pernottare in tenda c'è musica dal vivo, giochi per bambini e passeggiate a cavallo organizzate, stand gastronomici con prodotti locali. La manifestazione si aprirà venerdì 5 agosto con l'accoglienza dei Cavalieri alle 16, inizio delle iscrizioni al Palio aperto a tutti. Alle 22 il concerto degli Ska Aperol, dopo aver gustato alle 20 la pasta alla matriciana e la pecora alla brace. Sabato 6 agosto apriremo la giornata con la passeggiata a cavallo, alle 12 iscrizione al Palio delle Giovani Leve, alle 15 Palio delle Giovani Leve, alle 17 qualificazione al Palio dei Saraceni, ore 20 Pappardelle al Cignale, ore 21 e 30. Gran Galà degli Spettacoli Equestri, ore 22 con DJ set con animazione e musica salsa reggaeton. Domenica 7 agosto alle 12 ci sarà un mini show di Bartolo Messina alle 16, il gran finale del decimo Paio dei Saraceni. Alle 20 le fregnacce alla Sabinese, tanta gastronomia. Alle 21 e 30 spettacoli equestri. Per tutti i cavalieri che vorranno partecipare sarà possibile acquistare dei pacchetti menù per tutti e tre i giorni della manifestazione al costo di soli 40 euro. La manifestazione è nata 10 anni fa con l'intento di ricordare le gesta del condottiero Archibrando Darieti che radunò tutti i contadini della Sabina per sconfiggere e scacciare definitivamente dalle proprie terre i Saraceni.